Mi piacerebbe poterti dare una risposta tipo che è dalla collezione dei miei, però probabilmente sono il motivo per cui i miei a un certo punto hanno smesso di tenere i dischi perché li usavo come pattini in casa, quindi poi penso di essermi appassionato prima ai film e alle colonne sonore dei film e poi alla musica dopo, quindi è stata una cosa graduale. Se ti devo dire un momento in cui c'è stato proprio un momento cruciale, è stato quando ho visto un film in particolare, Fuga di mezzanotte, c'è stato proprio questo momento in cui ho detto quanti suoni, fighissimo, poi da lì è arrivato poi il computer, quindi Emule e tutte queste cose, si scaricavano musica e tutto. E poi a mettere la musica mia è stato verso più o meno il primo periodo pandemia, quindi da molto poco, abbiamo iniziato un progettino in radio, una radio online, per cui si metteva musica tra me e i miei amici che erano in Italia mentre io ero in Olanda. Quindi c'era una selezione musicale per la radio? Sì esatto, poi si parlava, si facevano anche poi delle tori, era una cosa simpatica durante la pandemia. Invece allo step per arrivare a suonare, a mettere i propri dischi, com'è avvenuto e quando? È stato poi appunto durante la pandemia, prime occasioni di feste in casa, poi si è un po' evoluto e quindi è sempre sì, ho iniziato da molto poco, quindi poi è sempre stato un ambiente molto familiare, adesso abbiamo iniziato a fare le prime feste su Amsterdam, Amsterdam che è un ambiente che ti dà molto la possibilità di farlo, cioè carta bianca, ti dicono cosa ti piace, poi è molto radicato nella cultura, quindi bene o male le mani alla console sa mettere bene o male tutti, ci sono tante possibilità di farlo. Qua linea musicale che ricerchi? Qual è? Cosa ti piace suonare? E qual è la musica che più ascolti? A me piace molto, ovviamente ho delle fasi, quindi parto principalmente dalla house, mi piace molto, specialmente qualche anno fa ero molto molto su Chicago House, New York, anche qualche cosa del genere, perché poi secondo me tutto quello che ascoltiamo oggi è tutto basato su quello, secondo me poi non è... Anche altri DJ sono passati, mi hanno detto questa cosa e posso darmi anche da poco. A me piace molto, sì sì, il classico. E poi ultimamente sono molto molto orientato sulla Progressive, se ti devo dire un'etichetta che mi piace molto, che non è proprio Progressive, però Love on the Rocks di Paramida è un'etichetta che ultimamente mi dà sempre un sacco di soddisfazioni. Quali sono, diciamo, gli strumenti anche con quelle ricerchi? Spesso Mario Novi, se c'è Spotify, c'è tante piattaforme su cui ricercare, qual è quello che i prediligi e come la utilizzi? Principalmente Bandcamp, solo che purtroppo i filtri non sono al massimo, quindi devo dire anche se devo cercare qualcosa di digitale, molto YouTube, quindi YouTube un sacco. Cioè per vedervi un po' i canali in cui, tipo chi carica video e tutto, vado su forum, magari Reddit, queste cose qua. Poi ci sono anche dei canali Telegram che seguo e quindi... Sì sì, poi te li faccio. E poi ovviamente ci sono un sacco di negozi di dischi ad Amsterdam, uno che mi piace tanto è Killa, cazzo, pure Rush Hour, che ogni tanto si trova qualche cosa, quindi non suono vinili, però ogni tanto mi compro qualcuno. Sì esatto, esatto. Ti piacerebbe provare, iniziare anche... Vinili, certo sì sì, un sacco sì sì, però lo approccio, però comunque non me la sento ormai di suonare quando sono in giro con quelli e ancora non me la sento. Ovviamente hai bisogno di un'esperienza, comunque di un, diciamo, una sicurezza anche nel suonare prima di andare a farlo nel concreto. Esatto, esatto. Ok, ti faccio un'altra domanda. C'è un'altra passione che avresti dovuto, ovviamente mi hai parlato del cinema, è ok, un'altra passione che avresti dovuto approfondire. Ah sì, in realtà una cosa che mi incuriosisce davvero tantissimo è provare a usare il codice, quindi linguaggi di programmazione per creare musica. Ci sono dei software tipo Sonic Pi in cui praticamente tu scrivi codice e formi dei loop, che alla fine la musica elettronica è quella, sono loop, e tu live puoi cambiare questo loop, aggiungere magari strings, quello che vuoi. Quindi tipo su C++, Java? Quello è scritto in Ruby, però sì. In Ruby? Sì, quello è scritto in Ruby, però è un programmino molto molto figo, quello mi piacerebbe davvero imparare un attimo a vedere come fare. Ok. Sì. Poi alla fine l'intersezione fra tecnologia e musica, mentre adesso c'è molto questa tendenza all'andare, al tornare al vinile, al tornare all'analogico, però alla fine è quello che è sempre stata, per esempio la Tecno, è sempre stato quello che poteva essere il futuro, quindi la musica è anche questo, è anche ricerca di qualche cos'altro, che cosa potrebbero essere i suoni del futuro. Certo. Quindi sì, mi piacerebbe anche provare quello. Non ti ho chiesto di fare di altri gruppo? Abbiamo di recente fondato un gruppetto su Ad Amsterdam, No Flak, adesso abbiamo iniziato a fare le prime feste, però è una roba molto molto giovane. Adesso vediamo, ora sto pensando di entrare in Italia con la mia ragazza, quindi ora... Quindi adesso stai là praticamente. Ora sono ad Amsterdam, però mi sa che entro fine anno, non mi sa, entro fine anno verrò qua a Firenze. E io non sono di qua, però verrò a star qua, quindi sarò un Fiorentino adottato. Grazie, grazie mille. Grazie mille. E spero che ti sia trovato bene qua a One Hour. Moltissimo, grazie mille per l'opportunità. Alla prossima, grazie. Grazie. Grazie.